Sono Roberta Fabiani e al Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Roma 3 sono delegata all'internazionalizzazione e ai doppi titoli. Cos'è un doppio titolo? È un percorso di laurea internazionale che porta chi si iscrive a conseguire due titoli di laurea in due paesi diversi. Studenti e studentesse si iscrivono nella propria università, detta Home University, e poi in una seconda università, detta Host University, all'interno di un consorzio prestabilito dal proprio Ateneo. Pagano le tasse soltanto nella Home University. Per conseguire il doppio titolo devono studiare almeno un semestre nella Host University e conseguirvi 30 crediti. In tutto il percorso gli studenti e le studentesse sono accompagnati da tutori, uno da entrambe le università, in tutti i momenti importanti del loro percorso di studi. La tesi, a seconda delle regole stabilite, può essere scritta nella propria lingua, in quel caso accompagnato da un abstract in lingua straniera o in lingua inglese. Si tratta di un percorso certamente impegnativo perché richiede la conoscenza di una lingua straniera, almeno l'inglese, in certi casi anche una seconda lingua straniera, ma altamente formativo e remunerativo sul piano della crescita personale, scientifica e delle relazioni internazionali. Qui al Dipartimento di Studi Umanistici abbiamo quattro percorsi di doppio titolo. European History, che è un percorso in storia moderna e contemporanea, Religions, Cultures and History, un percorso in scienze delle religioni, Field Archaeology in Greece, un percorso in archeologia e lo European Master in Classical Cultures, un percorso in classics che prevede lo studio sia delle letterature che della storia che dell'archeologia nel mondo antico. Per qualunque informazione su questi quattro percorsi, anche per le scadenze dei nostri bandi, vi invitiamo a visitare il nostro sito studiumanistici.uniroma3.it